musica 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 ciao ciao mauro ma cosa fai con? quanti pori che ti devi dare a scopo ahahah risolto? troppo risolto? si porti in diretta tra un poco arriverò su circa due ore dopo gli altri ma non da niente ce ne faremo arrivare in cima sarà sarà doveroso è praticamente un anno che non vado su dove sta? siamo circa 106 fanta cazzatori però i pesci sono tipo non da perchè ho quasi spinito patrona ahahah 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 ah ah hoplala 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 ahahahahahahahahahah hoplala hoplala colap Grazie a tutti. 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti.